Sì, il borgo dei borghi, non potevamo mancare assolutamente ad una festa così bella. Le prologo calabresi hanno voluto festeggiare insieme con la giunta nazionale dell'UMPLI, con il presidente nazionale dell'UMPLI e chiaramente tutta la classe dirigente calabresi, il consiglio regionale, la giunta calabrese eccetera. Io ho solo poche cose da dover dire. I complimenti alla presidente della prologo di Tropea e i complimenti a noi calabresi perché siamo riusciti finalmente quest'anno ad avere tanti premi e raggiungimenti di obiettivi che forse fino a ieri erano impensabili. Cosa devo dire di più? Dobbiamo mirare a che la Calabria sia in prima pagina per cose belle. Dobbiamo lavorare tutti insieme perché queste cose belle escano allo scoperto attraverso i media, attraverso il lavoro e coprire o semmai far scomparire tutte quelle prime pagine che invece in Calabria raccontano un'altra Calabria. Io dico che è una percentuale piccolissima quella che racconta un'altra Calabria. La Calabria è la gente per bene, invece siamo tutti coloro i quali vogliamo bene a questo territorio. Grazie.